Concentrazione massima, domenica si torna in campo per un'altra giornata di campionato davvero importante. Se da un lato Agnonesi e Isernia sono impegnate nella bagarre della zona play-out, il campo basso prova a ritrovarsi al 100% nel big match del 33esimo turno. A semapiana infatti arriva il Cesena, la sfida alla capolista ha come sempre un sapore diverso. C'è voglia di fare bene, di ben figurare al cospetto della migliore squadra del raggruppamento, con l'idea ben chiara di cercare un risultato positivo. Servirà massima applicazione da parte di Rosso Blu. Siamo certi con una prestazione completamente diversa rispetto a quella scialba e con poca cattiveria vista a Giulianova. Intanto, in merito alla questione dei biglietti, la società è tornata sui propri passi, riportando il costo del biglietto della curva a 10 euro, chiedendo tramite un posto su Facebook a questo punto una risposta massiccia e concreta da parte del pubblico di Fede Rosso Blu. Sicuramente il sodalizio del presidente Circelli ha tutte le facoltà di poter chiedere una risposta concreta alla piazza nel momento della gara più importante dal punto di vista del blasone, anche perché gli investimenti sono stati e continuano ad essere importanti. Ultima notizia negativa, l'ennesima condanna al pagamento della vertenza dell'ex attaccante Evacuo, una somma di 11.500 euro. Non poco, se consideriamo la mole di debiti e vertenze lasciati dalla vecchia società, tutte spettanze saldate dall'attuale proprietà. Ecco perché, secondo noi, la scelta di un rincaro biglietti era legittima, la società ha diritto al massimo rispetto. Poi una decisione si può anche criticare, sempre però tenendo a mente una visione più ampia di tutta la situazione, ovvero l'impegno economico e impressionante avuto da luglio ad oggi. Tornando al calcio, nell'idea di Bagatti c'è sicuramente l'intenzione di modificare qualcosa rispetto a domenica scorsa, magari qualche uomo che sembra abbastanza spremuto e accorto di lucidità. Una valutazione tuttavia che lascia il tempo che trova, soprattutto quando si vanno a giocare questi match. Il giocatore di carisma viene fuori con prestazioni di livello quando sale la pressione. Ecco che il tecnico potrebbe concedere una nuova opportunità a chi sostanzialmente lo ha portato a scalare la classifica dall'ultimo posto. In difesa il rientro di Marchetti dopo il turno di squalifica scalpita Musetti alla ricerca di una maglia da titolare. L'ex attaccante del Parma, secco nel 2019, potrebbe sfruttare la sua esperienza per tornare a timbrare proprio in un match d'élite. Prevista una cornice importante con un buon numero di supporters provenienti dal capologo di provincia Romagnolo. I bianconeri guidano la classifica con più 4 sul Matelica. Margine rimasto praticamente inalterato nonostante la sconfitta contro il Pineto Almanuzzi per il contestuale pareggio dei secondi contro il Sant'Arcangelo. Sicuramente la trasferta di Campobasso sarà presa con le molle da parte di tutto l'ambiente cesenate. Dalla società alla squadra ai tifosi tutti concentrati per cercare i tre punti al Selvapiana. Vero e proprio spareggio per l'Isernia che a lancio e lotta riceve il Giulianova. La sconfitta di Castelfidardo ha di fatto ridisegnato la tabella di marcia. Uno stop imprevisto e inaspettato per un Isernia che ha il dovere e l'obbligo di reagire domenica. Sfida davvero decisiva contro il Giulianova che precede di 7 punti i Pentri. Non è tanto la rincorsa ai giuliesi, piuttosto la necessità di fare punti per allontanare il penultimo posto e garantirsi almeno il play-out. Oggi non si possono fare calcoli, l'unica strada è la vittoria, soprattutto nelle condizioni di classifica dell'Isernia. Le gare in casa non si possono assolutamente sbagliare. Ecco che servirà un match di assoluto livello come quello visto contro il Montegiorgio due settimane fa. L'avversario sarà altrettanto motivato. Il Giulianova vede la salvezza diretta, la squadra è in palla e reduce dal successo maturato con merito contro il Campobasso. Mister Bolzan tuttavia dovrà fare a meno di due elementi, l'esperto attaccante Tozzi Borsoi e Crisci, entrambi espulsi nella gara contro i lupi. Trasferta a Iesi per l'Olimpia agnonese. Gara delicatissima e perigranata su un campo molto difficile. I biancorossi non perdono in casa da metà novembre e hanno costruito la salvezza quasi matematica nel 2019 con ben 23 punti ottenuti nelle 13 gare del girone di ritorno. Un bottino davvero importante per una squadra che a fine andata era nel pieno della zona play-out. Insomma i marchigiani vogliono chiudere il discorso salvezza. I Granata cercano punti a domicilio. La vittoria sulla Savignanese ha riequilibrato la classifica per accorciare sul gruppo play-out. Ora serve continuità. Come per l'Isernia non si possono fare calcoli. I risultati a singhiozzo mancati nel corso dell'anno devono per forza di cose subire un'inversione di marcia in questo finale. Ecco perché serve fiducia per un match sulla carta giocabile dove gli episodi, come spesso succede, saranno decisivi.